E tu ogni giorno li porti qua? Praticamente sì. Quanto ci stai? A volte anche due ore. Almeno si stancano bene. Al giardino? Il giardino è piccolo, vedi, li difianto. No, beh, però stando due ore così liberi si sfogano ben bene, anche con tutti gli odori. Noi andiamo, d'estate, stiamo magari fuori di più, camminiamo meno. Ci fermiamo lì lassù, mettiamo il bagno. Invece l'inverno camminiamo abbastanza. Ah, beh, direi. Sì, siamo a bella Napoleone. Pronti? Andiamo? Pronto? Chi è che lo prende? Chi è che lo prende? Napo, Guia, Freire. Bravo, Freire. Dai, lui, va gliel'osso, dai. E lui, va gliel'osso. E morisce? Con la sua dole? Eh? Guia! Non si. E Guadagnia, io becco sempre. Sì. 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 No, lui il problema è che... Sì. Grazie.